Vi auguro una serena giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è molto presto. Decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Questa carta ti chiede che cosa vuoi e pretende una risposta molto chiara e precisa. Così come fai un'ordinazione al ristorante. L'universo ascolta i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti nella tua vita amorosa e ti porta ciò che chiedi. Quando ti lamenti di ciò che ti è stato servito è solo perché hai espresso un ordine poco chiaro. Se chiedi senza mezzi termini ciò che desideri, esso verrà a te in un istante su ali d'angelo. Hai attratto questa carta perché è tempo per te di essere chiaro e onesto con te stesso e di formulare le tue richieste con fiducia e ottimismo. Confida nei tuoi sentimenti e scegli cosa è meglio per te. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.